Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video dove parleremo di stallo nei carichi di allenamento. Che cos'è innanzitutto lo stallo e perché si verifica? Lo stallo di allenamento si verifica quando non riusciamo più ad incrementare il carico sul nostro caro bilanciere e si può verificare soprattutto in quelle fasi che iniziano a portare il soggetto a non essere più un soggetto decondizionato ma ad avere anche un discreto allenamento alle spalle. Questo porta inevitabilmente ad un appiattimento della curva di miglioramento dei carichi che causerà periodi più o meno lunghi in cui il soggetto dovrà continuare ad allenarsi pur non avendo, almeno palesemente, gli incrementi che aveva all'inizio. Ma perché si stalla nei carichi? Vediamo in questo brevissimo video le tre ragioni principali dello stallo nei carichi di allenamento. Sarà poi premura di coloro che ci seguono andare ad approfondire ogni singola tematica in libri di testo specifici del settore. Una delle prime ragioni che causa o può causare uno stallo nei carichi di allenamento è una tecnica non matura. La tecnica infatti è una delle componenti cruciali di una prestazione. La tecnica permette di spostare carichi che sono più o meno importanti con meno dispendio energetico, specie quando i suddetti carichi diventano davvero elevati. Seconda condizione, oltre ad una tecnica cerba, può subentrare addirittura la programmazione di un recupero insufficiente. Per esempio, il recupero garantisce un corretto ripristino dei substrati energetici ma anche un recupero dal punto di vista articolare, neurologico e ultrastrutturale. Molti allenatori, per esempio, concentrano i loro sforzi sul valutare le intensità e i volumi più idonei per il caso specifico, ma vanno a trascurare proprio uno dei parametri fondamentali dell'allenamento, che è proprio il recupero fisico. Abbiamo però una terza condizione che ci può portare a stallare nei carichi ed è l'elevato stress cognitivo a cui è sottoposto l'atleta. Lo stress cognitivo, in senso più dettagliato, può avere due effetti. Da una parte, aumentare la prestazione, ma non è questo il caso. Il secondo caso è proprio ridurla, proprio perché si ha una sovrastimolazione che va ad inficiare anche il corretto reclutamento neuromuscolare. In questo video abbiamo invitato di parlare del fenomeno del sovraffaticamento o dell'overreaching che potrebbe sfociare poi in un secondo fenomeno che è l'overtraining, che però abbiamo trattato già in precedenti video che vi invitiamo a visionare proprio all'interno di questo canale. Anche oggi questo video finisce qui, almeno questo video introduttivo, perché potete trovare anche spunti di riflessione e approfondimenti all'interno del nostro blog su www.corebosport.com Invitiamo tutti coloro che ci seguono ad iscriversi al canale, qualora non l'avessero ancora fatto, e noi come sempre ci rivediamo al prossimo video.